E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, tra parentesi, benvenuti su Fallout 4. E così abbiamo incominciato una nuova serie, mi sa? Sì, una nuova serie. Ok, allora incominciamo. Spero si vede tutto bene. Qua c'abbiamo Codsworth, il nostro robot che ci dà degli aiuti. Per chi non lo conosce, vedete sotto in descrizione l'altro video. Allora, vi metto il link in descrizione, un'altra serie, quella lì vecchia, se qualcuno l'aveva vista, mi scrive nei commenti. E comunque, se state per andare a dormire, non guardate questo video. Vi avvertiamo, non lo guardate mai. Se lo state guardando prima di andare a dormire, mai guardarlo. No, non lo dobbiamo prendere pure il nostro figlio. E per fortuna c'è Codsworth. Il mitico Codsworth. Allora, andiamo. Questa è il camera nostro. ma non è che ci possiamo ingrappare a Cold War e vogliamo tutti in alto in alto dobbiamo ricordare di far sviluppare ah ok no, di sviluppamento o cose varie giuri quando arriva la cosa che era Matti vuoi giocare un attimo tu ragazzi vado a prendere una cosa fondamentale per la fantasy torna subito un abbraccio per ogni necessità di consiglio eccomi 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 ho preso qualcosa che migliorerebbe l'audio oh oh ciao c'è un problema Matti vai alla porta no no non si può mettere Matti dammi il controller ah l'ho capito nella porta reale ok allora andiamo ad aprire la porta buongiorno siamo alla porta buongiorno buongiorno gli schiarisci la luna finisce che tu sia qui ok allora sembra fantastico ragazzi ragazzi abbiamo finito di compilare solo che devo fare il nome un altro taglio ok ragazzi alla fine ho deciso di chiamarmi una sicurezza in più ok ecco sta piangendo Matti si è di ah sciondaci sciondaci penso io faccia pezzettini dammi quella lama tagliente lo faccio a pezzettini come stanno i due uomini che faccia i due uomini chiusurre un po' per la testa allora allora ragazzi non dovete schifare di questa parte se volete perché è un po' lunga ok ok ragazzi qui non schifate questa questa notizia è importante ok oh accennati suoni di esplosioni stiamo stiamo cercando di ottenere conferma ma stiamo cercando stiamo arrivando rapporti confermati infatti rapporti confermati esplosioni nucleare a New York e in Pennsylvania proprio qua ok ecco perché era utile facciamo la gara ok non c'è tempo di portare le valigie sono stanco con i miei con le valigie muoiono sempre sono il primo forse fare un mini taglio ma non va bene sono la lista salviamoci 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 oh ma stai correndo più lento di una ruota guardate posso restare qua all'infinito eccoli ci puoi saltare sopra ora ragazzi in questi 200 anni quello li rimarrà per 200 anni ok ce la faremo tanto quell'aereo ricordatevi ora mandali giù questa cosa non può andare più veloce c'è Tati ha ragione pelo a pelo ah guardate ok il controller mi ha tremato come se non ci fosse un domani ok devo dire tutto ok per ora per ora ok ok vi sistemeremo tutti nella nostra nuova casa per 200 anni lo so comunque spoiler spoiler che prenderemo un'arma nooo ok ok manco io so ok ma 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 sta ancora così dammi le 200 no no è una gara signore si sta vincendo ah ah cammino pure a vetro marcia no no non cammino a ritrovarci dai 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 acceleriamo faccio accelerare ora tu non entrare eh non capisco per il futuro giusto no giusto no giusto dove andate non c'entriamo neanche per sogno mi dà pure un po' di ansia questa parte qui ci sarà un taglio ragazzi perché questa mascella è un po' che non sarà piacevole quindi taglio no se volete schippate no ma che ora sto a pregare adesso non questo è un taglio questo è un taglio questo è un taglio forse ragazzi è successa una cosa che vi ho tagliato era meglio ok ritaglio nuovo taglio ok ragazzi questa parte qua l'abbiamo tolta però ora ci sarà tutto in prato non si può accedere aiutare prendendo tutto quello che trovo non c'è niente grande se no se no vi piacciono le scarpaggi tagliate poi schippate però va a parte il gioco non c'è niente e ti devi dire non so manco accelerare il gioco eccovi qui c'è la festa cosa è successo dove sono vieni siamo in polta abbandonato in bra da nina in bra guarda quante marci ecco la è troppo marci ti posso volete prendi tutti gli skin pack giuli con tre skin pack posso ripetarmi guarda una giolla dove è nello sconsino aspetta non gli viene ma non ti fa scrivo toccare dei tasti con il muschio sopra addirittura eh guardate so peggio di non so cosa giuli vai là eh lo so qua aspetta giusto qua lo vedete no ti dici ora no sai da edgar scegli edgar è così che giuriamo l'amore da dei costi super travi è vero ho l'unque arma del gioco devo ancora riprendere la mira però mi ricordo ancora come si ricarica come si attacca beh come si attacca l'amore 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 l'avevo visto dobbiamo prendere il ok let's go bel peso inutile tra parentesi ok se guardate allora questo qui è il modello più vecchio che c'è e guardate c'era una polvere sullo schermo ma ora è questa quella 7.08 è vero è un pixboy ok così scambiava così si andava a pesare più vista ma siamo ancora qua lui come fa a sapere tutti i comandi se non l'ha mai utilizzato infatti il tizio che qua non l'ha mai utilizzato come va giusto non possiamo scaparci senza guardate ragazzi quel vetro era cioè sembrava carattolo guardate ragazzi guardate ragazzi quando vado il pink boy tutto il gioco va in pausa è miracoloso il pink boy il pink boy si buon ritorno in superficie grazie per averci detto volte ma che grazie che abbiamo perso per una persona livello 1 livello 1 bene ok ragazzi ora ci sarà qualcosa però nel prossimo episodio allora ragazzi per questo video possiamo concludere qui ricordate di lasciare like se il video vi è piaciuto ma non abbiamo fatto niente guarda continueremo un altro giorno o domani e allora e per questo video possiamo concludere qui ciao ragazzi iscrivetevi attivate la campanellina grazie a tutti